Gli orti sociali AncheScout sono scrini di socialità, natura e saperi, dove le persone si incontrano non solo per coltivare un orto, ma anche per coltivare legami sociali. Nel corso degli anni queste realtà si sono evolute e adattate, ampliando e qualificando le proprie attività, ponendo sempre al centro dei propri obiettivi il benessere della persona e una rinnovata sensibilità verso tematiche di tutela, sostenibilità ambientale e inclusione sociale. Nell'ambito delle attività di valorizzazione e rilancio dell'area ortiva aderenti, AncheScout APS promuove alla Commissione Orti e Green Economy, il concorso fotografico Gli orti sociali AncheScout, scrini di socialità e natura, nel quale i partecipanti potranno raccontare attraverso immagini distanti catturati nel tempo le tante sfaccettature, i valori e le attività peculiari che ogni aria ortiva realizza.